Ciao a tutti, titoline e titoline, benvenuti in questo nuovo video. Mi dispiace veramente tanto di, diciamo, avervi lasciato così tanto tempo senza video, perché diciamo che in un anno e mezzo ero riuscita sempre a fare almeno un video a settimana, anche se registrandolo prima, però comunque mi dispiace veramente. Però come magari molti di voi adesso sono sotto esame alle medie o al liceo, io sono sotto esame all'università e se mi voglio laureare, devo dare tutti gli esami in tempo, quindi in questo periodo sono veramente incasinata. Faccio questo video di corsa, sono appena tornata all'università, ho mangiato e poi ho detto no, voglio fare un video perché ieri ho dato un esame, quindi ho un pochino di tempo, quindi volevo farlo per rassicurarvi che sono viva e ci sono sempre sul canale, non voglio chiuderlo, voglio continuare a fare video perché è una cosa che mi piace fare e non peraltro perché non è che mi pagano o cose varie. Ho visto che vi è piaciuto molto il video Titta Pensiero, dove parlavo in quel caso del libro di Greta e quindi vorrei chiedervi sotto qui nei commenti di scrivermi altre cose che vorreste sapere del mio pensiero, cosa ne penso degli asini che volano oppure di un tema molto più importante come ad esempio quello che è successo ad Orlando. Comunque fatemi sapere un po' tutto quello che vorreste sul canale oppure se avete anche idea di altri video fatemi sapere, io comunque ce ne ho già in programma tanti, devo solo trovare il tempo di farli. Inoltre volevo anche dirvi di seguirmi intanto sul mio Instagram che vi metto qui e poi di mandarmi in direct dei consigli che voi vorreste da me riguardo amore, amicizia, famiglia. Comunque questi qui sono i temi fondamentali e io, o in forma anonima se non volete che si sappiano le vostre cose, comunque io potrò darvi magari dei consigli, insomma dirvi quello che penso anche su quegli argomenti, ad esempio se avete un fidanzato a distanza, magari vi posso dire se io l'ho mai provato, come affrontarlo, insomma darvi dei consigli, il titta consiglia. Inoltre volevo annunciarvi che ci saranno tante news magari da foto su Facebook, Instagram, avete già o potrete già capire qualcosa, comunque ci sono delle news e vi dico che farò un viaggio di un mese e quindi vorrei portarvi con me lì, fatemi sapere nei commenti se vi farebbe piacere. Detto questo e rassicurandovi che sono sempre viva e non vi ho abbandonato, volevo farvi gli in bocca al lupo per gli esami, terza media o maturità, anzi fatemi sapere se volete un video anche su questo argomento, se magari vi può interessare. Mi faccio gli in bocca al lupo anche per i miei esami, fatemeli anche voi. Seguitemi su tutti i social e... Non mi ricordo più come si fa l'uscita del video. Se questo video vi è piaciuto lasciami un piccolo like e condividi se mi vuoi bene, iscrivetevi al canale perché potresti essere a rischio di vita, seguitemi su tutti i social e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!